E nonostante le sconfinate bellezze che l'Italia ed in particolare il sud ci offre, un giovane ricco di sogni dovrebbe trasferirsi nella capitale britannica. Cosa significa quindi vivere a Londra? Sigla! Bene, vivere a Londra significa trasferirsi in una delle capitali più belli d'Europa. E oltre ad essere uno dei luoghi più suggestivi del pianeta, rappresenta anche la speranza di realizzare il proprio sogno grazie alle migliaia di opportunità di lavoro che offre. Vivere a Londra significa acquistare indipendenza e svegliarsi con certezze solide nella tasca. Vivere a Londra significa opportunità. Vivere a Londra non significa soltanto migliorare la propria vita dal punto di vista economico. Vivere a Londra significa anche essere coinvolti da una delle comunità più cosmopolite del panorama mondiale. Le occasioni di vivere a contatto con una società aperta a tutte le etnie e tutte le religioni. Vivere a Londra significa libertà. Libertà di espressione e soprattutto libertà di pensiero. Vivere a Londra non significa affatto alzarsi con il timore della pioggia. Non significa scendere la sera e andare al pub. Né tantomeno seguire il football la domenica. Vivere a Londra significa camminare per alcune delle strade più suggestive d'Europa. Strade che sono state calcate da molti dei personaggi storici più importanti. Vivere a Londra significa rivivere i Beatles ad Abbey Road, le avventure del detective più famoso al mondo a Baker Street per esempio, o semplicemente visitare zone magari meno note, ma che vi lasceranno a bocca aperta come i mercatini di Camden Town, in cui il tempo sembra essersi fermato ai gloriosi anni della scena punk. Oppure gli splendidi scorci in cui riconoscerete alcuni dei luoghi iconici del mondo cinematografico e musicale o artistico. Vivere a Londra è un'esperienza unica, fondamentale ed irripetibile. Vivere a Londra in una sola parola significa tutto ciò. Significa abbandonare un mondo di incertezze e di immergersi in un'avventura che con un po' di impegno e di dedizione si rivelerà fantastica. Vivere a Londra significa vivere. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube. Oppure se lo stai guardando da Facebook metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao! Grazie a tutti.